Venezza, questo? Questo è venuto a Venezza, sì, ma io venivo da Venezza. No, per il momento sulle fermate non ci hanno detto nulla. Sì, sì, lo so, però come fermate? Infatti anche i treni di là stanno fermando, poi non lo so da oggi cosa succederà, però per il momento sulle fermate non ci hanno comunicato nulla. Questa viva Venezza è faccenda delle persone. Il treno in Italia, nelle ore 12.03, proveniente da Brescia, arriverà a ritardo previsto di 45 minuti per un vasto a un treno precedente. Il treno in Italia, nelle ore 12.48, proveniente da Venezza, Santa Lucia, arriverà a ritardo previsto di 10 minuti. Attenzione! Il treno in Italia, nelle ore 12.03, proveniente da Venezza, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, in Italia.